Il pezzo in prima esecuzione che presento in questa biannale musica si intitola Job List ed è un pezzo, un divertimento, uno scherzo se vogliamo, per trio d'archi che ha una caratteristica di mettere insieme una delle ultime composizioni di List con una delle composizioni di Scott Joplin. Questo gioco di contaminazione è un gioco che io da tempo porto avanti soprattutto alla luce di quelle mie interferenze, di quelle mie riletture in chiave di attualità. La sorpresa per me è stata che il direttore artistico ha voluto affiancare questo pezzo un pezzo scritto 37 anni fa quando io facevo la sperimentazione d'avanguardia e la fortuna ancora per me è di aver avuto occasione di incontrare il quartetto della Fenice un magnifico quartetto di strumentisti meravigliosi che in questo caso si dividono in due triglie ma che mi hanno veramente stupito e soddisfatto.